Oggi, amici miei, vi parlerò di angeli e ve ne parlerò in diretta da Monza, dalla reggia di Monza. State in campana, intorno alle 5 e mezzo, 6, sarò in diretta e vi parlerò di angeli. Di angeli? Come mai? Eh, lo scoprirete. Lo scoprirete in diretta su iTunes oppure sul mio profilo Luciano Simonelli di Facebook. A più tardi, arrivederci.